senza numero almeno all'interno 14.2 a partire punta subito in avanti l'allievo di Gubelina avrà sicuramente un classico freeway per anticipare soprattutto gli avversari comandati da Let's Breed l'uno a tabellone 400 se ne vanno in 30.5 e davanti alle tribune la favorita al comando risale presto Aura numero 15 con la Villani e la Villani punta in avanti non ammette interferenze non ammette niente si presenta su Abra Katabra 45.5 i 600 e la targata Gari impegna a fondo Aura impegna a fondo poi galoppa Aura attenzione quindi Abra Katabra rimane leader cavalle che affrontano il penultimo rettilineo 1.1 e 6 il mezzo miglio si fa luce anche Alessandrina per linee esterne che punta in avanti Abra Katabra si trascina sempre Albina Caff come quasi da partenza 17.3 il chilometro allunga disinvolta la targata gara e prende due di vantaggio su quella di Forino le cavalli affrontano la curva finale con Abra Katabra in fuga aumentano aumenta il vantaggio cavalli al completamento della curva finale retta d'arrivo Abra Katabra gara ormai ha messo un punto preciso sulla vittoria mentre viene via la grande il 12 di Autorità Grimm e mentre Abra Katabra vince facile viene bene anche il 3 di Amira Jack Abra Katabra facile Autorità Grimm e per il terzo proprio il numero 3 di Amira Jack probabilmente sul numero 6 di Albina Caffa ma per il terzo conservati i biglietti ci sarà fotografia 2-2 1-16-2 doppio in giornato di Pietro Gubbellini finalmente il Pietro Gubbellini che conosciamo è vero che erano due favoriti però ci ha messo del suo grazie anche a Finetti 1-89 è salita la quota linea allo studio